buona serata a tutti ciao Gianluca ciao a Luca Ferretti e Giorgio Gilestro i nostri ospiti veramente graditi questa sera grazie come state ragazzi benissimo dove siete UK credo io non posso dire dove so va bene siete in mezzo a una pandemia però Luca non ti hanno sono ancora libero fai dei segnali mettiamoci d'accordo io sono a Londra ancora per qualche giorno poi dopo se riesco vado in Grecia un pochino benissimo siamo tutti in mezzo a una pandemia però credo come lo eravamo una settimana fa due settimane fa la cosa che Thomas dice è che noi dovevamo fare questo video circa due o tre settimane fa poi per vari impegni di lavoro non l'abbiamo fatto e quello che ci siamo detti nelle mei tanto non è che finisce domani esatto mi pare non sia finita anzi anzi vabbè diteci un po dai diteci voi due visto che visto che UK è l'epicentro per noi fortunato di aver vinto come è andata in casa che siete mezzi inglesi con la finale no io noi da me siamo al cento per cento italiani mia moglie italiana i bambini almeno di cent'ora sono italiani quindi è stato facile tu Luca hai divorziato o no anche io sono cento per cento italiano italiano non hai suocere niente tutto italiano ah beh quindi è andata bene e ho anche in Italia vedo la finale ok tu invece Giorgio sei andato giù a umiliarli dopo io avevo staff meeting il giorno dopo lunedì mi sono presentato con la maglietta dell'Italia nel silenzio più assoluto tra l'altro io ho anche un po di clienti io ho anche un po di clienti inglesi e lunedì voi lo sapete che in teoria se avesse vinto l'Inghilterra ci doveva essere il ben coni quindi in teoria alla loro vittoria i miei clienti tipicamente non dovevano essere in ufficio che poi non era vero perché comunque chi fa l'internazionale fa il titolo di esteri e ci andava comunque ma comunque e ed è stato particolarmente carino chiede a ognuno di loro su Bloomberg ma sei in ben colli dei o c'è un po da bastardi devo dire sei in ben colli dei o lavori ecco sì no l'hanno presa bene devo dire benissimo erano tutti con te molto sportivi nei colleghi mi ha scritto per farmi i complimenti proprio piacevolmente sportivi hanno anche hanno anche detto che hanno abituati al fatto che in fondo questo sconfitto deve essere segnali la sofferenza di fare per l'Inghilterra perché è una sofferenza eterna e quindi ha detto così i nostri figli così imparano cosa vuol dire essere inglesi no ma secondo me secondo me questa cosa qua si collega molto all'aspetto anche epidemiologico ci puoi spiegare il perché allora l'Inghilterra è stata veramente diciamo un caso studio almeno in due ondate nel senso che è stata diciamo la nazione che ha sperimentato prima di altre le due ondate perché funziona così sì una cosa ecco e soprattutto aggiungo una domanda io un mio cliente inglese ha detto una cosa molto intelligente non mi ha detto ma guarda è una cosa un po' inspiegabile perché Boris Johnson è altissimo nei pol no dopo la variante inglese stava vincendo la battaglia la scommessa che avevano discusso anche qua di fare una dose orizzontale perché era una scommessa quando l'han fatta no stava vincendo a un certo punto mentre era sopra due a zero ha levato il portiere ha messo un attaccato cioè è sembrato questo lo step 3 e lo step 4 no cioè a delle persone non epidemiologi ma gente che in finanza quindi c'è un po' da fuori sembra una mossa da kamikaze banzai nippon proprio ma mentre vinci però che è strano per cui se ce l'ha spiegata anche anche culturalmente no da dove arriva sta roba qua al di là dei numeri va bene c'è una questione dal mio punto di vista che è curiosa del governo inglese ed è che dopo magari entriamo in quello che è la strategia del governo inglese che sembra abbastanza estrema in questo momento e onestamente lascia quasi perplessi tanto sembra estrema motivato dopo dopo scopriamo perché penso che sia motivata però estrema quello che mi sembra di capire negli ultimi giorni da 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 quello che posso sentire io diciamo io dico un conflitto di interessi perché io sono avviso indipendente del governo inglese pagato da un investimento solta fai dal paese del governo ma quello che dirò qui tanto ma contro gli interessi è molto male però da quel poco che sento dalla diciamo dalla della situazione in generale anche se c'è una strategia estrema dietro questa strategia non è frutto di una riflessione profonda o di lobby che sono in direzione strana quanto di una scelta di diciamo di una scelta di guardare l'orizzonte di breve termine come sempre accade in politica e di scegliere la linea di minima esistenza su scelta temporale corte non c'è anche se globalmente poi tutto questo spinge verso la strategia particolare e molto molto eschiosa e molto audace diciamo così ma non è frutto tanto di una riflessione a priori quanto sembra frutto di aggiustamenti aggiustamenti di nuovo la linea di minima esistenza e ultimamente è stata la prova nel fatto che il governo inglese in subbuio anche dal mio lato dal lato dell'app via dicendo è molto in subbuio appunto perché questa strategia non è stata pensata prima e quindi adesso c'è ambiguità e ci sono problemi ad esempio quello che sta succedendo che da un lato boris vuole fare tutto freedom day e così via dall'altro l'app in questo momento l'app inglese sta funzionando l'app andare perché ovviamente l'app inglese funziona a differenza di immune e in questo momento tutti si vedono tutti hanno contatti la gente comunque almeno uno su quattro usa l'app e in questo momento per la prima volta credo ci sono più persone ma stiamo parlando di più di mezzo milione di persone che sono in quarantena a causa dell'app anziché a causa del tracciamento manuale credo che sia la prima volta che accade durante l'epidemia o forse al secondo un soppasso del genere e le cose sono distante peggiorare l'app è sotto un poco incredibile di persone che la vogliono spegne a ogni orare e il governo sorprende che diventa ansiogena questa è la razza che diventa ansiogena stanno chiudendo i locali cioè dov'è che la gente si vede nei pub nei ristoranti dove la persona che sta lì più di quindici minuti vicino al cameriere scusami luca adesso non è per dire ma se tu hai cinquantamila casi al giorno a dieci contatti a caso ogni giorno isoli mezzo milione di persone c'è nessuno fatta semplice dai l'ho fatta a cazzo però il problema è che siamo su quel siamo su quel cioè diciamo sono magari sono magari quei cari settimanali perché no ma infatti l'ho fatta spanne però era per dire settimanalmente che poi visto che due dieci giorni di isolamento diciamo cinque media facciamo isolamento questa situazione il punto è che tutto il sistema tutto il sistema ma non solo in inghilterra in tutto il mondo tutto il sistema finora era tarato per una condizione che era la condizione del covid senza vaccini e adesso si muove si transiziona in un altro modo che è quello della vaccinazione della delta camp sono cambiate un sacco di cose quindi tutti questi strumenti non sono più tarati per per questo per questa nuova situazione l'app non è tarata per una variante che ha questa contagiosità e questo livello di escape i tamponi stessi non sono non abbiamo nessun sistema nessun paese capace di reggere con una sorveglianza a centocinquantamila casi al giorno che è quello dove stiamo andando non ce la faremo mai impossibile il sistema di isola di self isolation cioè se mio figlio sta male che il fatto che debba stare a casa anche io nel momento in cui 150 mila casi al giorno anche questo salta non è più sostenibile perché vuol dire che 20 per cento del paese sta a casa un giorno su due quindi c'è tutta una fase di transizione che nessun governo veramente era riuscito ad anticipare semplicemente perché tutti saranno bevuti la storia che quei vaccini finisce tutto e invece magari quei vaccini finirà tutto fra un po ma c'è questa transizione che può durare anche un anno no ma infatti infatti nessuno è pronto è quello che dico sempre a Gianluca che lui allora c'è questa fissa qua del problema che ci sia un fenomeno esponenziale che tu vuoi combattere con o le linee rette o con un fenomeno come la vaccinazione che va su con un certo livello poi vediamo israele si è arrivato tipo al massimo us la stessa cosa che ha fatto meglio di altri secondo me questa cosa qui non è stata considerata dei governi perché pensavano semplicemente a breve periodo come diceva come dite voi quando tu pensi solo a breve periodo poi ti trovi in una situazione come questa che è molto problematica io la vedo così la delta non se l'aspettava nessuno la puoi modellare tutto ma anche cioè voglio dire chiamarla sfiga è una cosa però ti dice proprio che questo virus ci sta mettendo tutta c'è da dire una cosa l'errore originale dell'inghilterra mentre con la variante alfa con la variante inglese è stata probabilmente sfortuna in buona parte con la variante indiana la delta è stata la poca volontà di chiudere le frontiere con l'india probabilmente legato alla politica del brexit al fatto che voleva un accordo commerciale con l'india via dicendo quello è stato l'errore difficilmente perdonabile per me al governo inglese nel momento in cui si sapeva che c'era la possibilità che l'india fosse assolutamente un'andata del genere per una nuova variante non si sono stati voli per un paese come l'inghilterra che ha tutta la comunità indiana enorme e legami storici e poi dopo dopo questo nel momento in cui le varie varianti indiane perché c'erano tre inizialmente erano spazio per l'inghilterra anziché cercare di abbatterle prima spara e poi chiedi quanto è pericolosa invece qui si è deciso aspettiamo a vedere aspettiamo essere sicuri che sia proprio pericolosa a forza di aspettare visto che diciamo le varianti inizio hanno anche una serie di effetti casuali si diffondono magari in certe comunità si diffondono in certe condizioni in particolare quando c'è una base etnica come in questo caso insomma hanno dovuto aspettare che la variante fosse abbastanza abbondante per studiava come tutti i fenomeni quando hai piccoli numeri non esce che c'è nulla quando hai grandi numeri finalmente il rumore scompara un po' e si riesce a dimostrare che la variante è più contagiosa posso dire che questo questo tipo di discussione che fai che è giustissima peggiora la situazione dei governi europei rispetto a questa situazione cioè perché in più avevamo anche le informazioni che arrivano dall'inghilterra negli altri paesi sì sì no ma non c'è dubbio che questo capitolo peggiora la situazione degli altri cioè tu dici peggiora peggiora la valutazione che puoi dare alla risposta dei governi sì assolutamente sì cioè assolutamente gli altri governi sono una banda di rincoglioniti cioè non so cosa aspettavano che no no cioè no ma ve lo voglio dire portare tutti alla realtà cioè è questa la situazione io credo che questo sia il punto più problematico cioè allora a me la risposta inglese lascia sconcertato in parte soprattutto la risposta in fiare il fatto che abbiano chiuso i viaggi con l'india che è la cosa più ovvia ma di nuovo c'è una zona di politica dietro però la risposta successiva mi lascia meno perplesso perché da un certo punto di vista l'inghilterra non aveva nella volontà politica nella volontà popolare di rimettere sulle barriere una volta che la delta non era più non era più localizzata e quindi sostanzialmente abbastanza crescita quindi la risposta successiva inglese è stato un post c'è una volta che la delta è si diffuso sul territorio non può essere presa di sorpresa stupidamente di nuovo ma purtroppo così andata il resto dell'europa in questo momento ha il vantaggio di sapere molto bene cosa sta arrivando e mi sembra che lo stia ignorando più o meno a quella fascia l'entriterra ma anche in la safe zone se ti posso dire perché non sappiamo bene questi numeri qua cioè da quello che vedo io e oggi già luca ha scritto un paio di tweet su questo cioè secondo me 60 per cento di trasmissibilità in più è tipo il floor di quello che sappiamo perché se vedo alcune zone in europa si sta sviluppando il virus secondo me può anche andare più veloce di questo secondo me no cioè non lo so ve lo chiedo a voi eh magari abbiamo porto noi cioè se vedo come si sta sviluppando il virus diciamo che ci sono opinioni di altri epi che non cito ma con cui ho scambiato un po' io vabbè un po' c'è l'effetto network che in tutti i paesi le gerarchie sono diverse sociali ma non per dire che noi siamo i migliori anzi siamo ancora peggio di però ci sono alcuni epi che lo vedono più in alto di così il vantaggio di trasmissibilità e non pochi eh no vabbè bastando di trasmissibilità in questo momento ha a che fare con la biologia del virus cioè quanto effettivamente più contagioso ma anche con la situazione che si viene con cui si viene a trovare quindi chi è vaccinato come quanti sono vaccinati tra gli adulti quanti sono vaccinati tra i ragazzini quanti hanno una dose quanti hanno una seconda dose quando ha fights e quindi è tutta una questione che confonde che non è facile da sbrigare dal punto di vista di eh aumentare ulteriormente questa contagiosità al momento non 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 è non è un rischio cioè voglio dire questa roba è già super contagiosa e non non no 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 Giorgio scusami magari mi sono espresso male io dico solo che lo stesso virus proprio per le condizioni di contorno che trova e anche di gerarchia sociale oltre che delle vaccinazioni del tipo di come sono le comunità no eccetera eccetera qualche epidemiologo di qualche altro stato che mentre in Inghilterra insomma si può dire che la vedono tutti al 60 50 60 per cento quello che è qualche altro paese la vede con un vantaggio che io ti dico onestamente quando ho visto Spagna Olanda e anche Francia andare su così la prima e due cose che ho pensato erano l'under detection prima e l'introduction dopo no perché ho pensato quello cosa devi pensare non è che è arrivato Hulk in Francia un virus diverso sempre lo stesso e se vedi che invece che il Dublin Time essere otto giorni è sei o quattro o cinque dici vabbè non l'hanno visto è il tipico effetto di founder effect che vedi all'inizio le introduzioni dei viaggi e sarà quello invece mi dicono qualcuno che studia lì che ha gli stessi luoghi Luca eccetera che i dati che vedono loro corretti per tutti questi effetti mostrano una trasmissibilità maggiore del 60 per cento ma comunque chi se ne frega basta no ma infatti no esatto quello è tipo il floor è il floor della demenza a cui si sono tutti aggiustati gli altri soprattutto la risposta dei governi europei è stata pessima cioè pessima rispetto a quello che già si sapeva speranza di mettiti il problema è che l'impressione che i governi europei stiano per seguire la strategia inglese volenti o non lenti costretti anziché volontari ma cambia poco la strategia inglese al momento per dirla molto chiaramente è quella che hanno chiamato in maniera elegante immunità ibrida spiegaci questa cosa qua secondo me è molto interessante detto in termini molto poveri della seguente c'è un'ondata di delta che non si fermerà che colpisce soprattutto i giovani e le componenti non vaccinate che sono prevalentemente in inghilterra appunto i giovani quelli che non sono vaccinati per niente e quelli che hanno la prima dose che sono diciamo gente in età lavorativa giovane diciamo 30 anni 40 anni e via dicendo e questo è un'ondata che sostanzialmente non si vede in grado di fermare di di essere fermata con nessuno strumento semplice con nessuno strumento specifico come può essere tracciamento come può essere fare testing più intensivo come può essere neppure a chiusura delle scuole a questo punto diciamo qualunque strumento che non siano chiusure serie tornare indietro all'equivalente delle vecchie zone arancioni o rosse non sembra in avere un effetto serio sull'epidemia l'idea però è che questa epidemia come diceva giorgio non si traduce poi in in un numero di ospedalizzazioni e morti molto alto diciamo ci sono ospedalizzazioni ci sono morti e si crescono esponenzialmente ovviamente entrambi però diciamo che con numeri per ora molto più piccoli di quelli che erano precedenti l'idea è la seguente ci sono già una buona parte di vaccinati e il vaccino protegge a un diciamo 75 per cento più o meno dall'infezione in più tutti quelli che ovviamente si prendono la delta a quel punto sono per un certo periodo del mui quindi sommando sostanzialmente i vaccinati che sono le classi d'età un po più anziane e facendo infettare liberamente i giovani in pratica quello che si ottiene è la famosa multa di grece ottenuta in parte con la vaccinazione e adesso con queste bellissime date che ci sono in questo esatto momento anche prima del rientro scolastico questo è un po anche la secondo me la questione questo questa questa sottiglie sta il punto è no è un po anche questa la cosa cioè il punto è mitigare troppo quest'andata porta anche al fatto che quest'andata arriverà comunque perché se non c'è nessun strumento per far male e si vaccino non sono abbastanza rapidi perché non è che si può vaccinare una gran parte dei giovani in due mesi lontano non ci sono le condizioni al momento purtroppo non manca mancano un po entrambe le cose e le condizioni è un fatto obiettivo la logistica diciamo così la volontà una cosa che mi fa arrabbiare personalmente moltissimo perché dovrebbe essere ovviamente la volontà di accelerare le vaccinazioni ma un po non c'è un po se volete un po quest'area dei libri tutti anche non aiuta quindi in pratica uno si aspetta che se l'andata non arriva ora se ora diciamo che ho l'inghilterra decide di attenuare la curva quello che succede è che si aspetta un'esplosione a settembre quando arrivo alla scuola perché la trassa d'età è quella non c'è niente da fare ora il ragione il calcolo molto cinico degli inglesi è ma prendiamoci una data estiva i giovani si infettano tutti raggiungiamo l'immunità di gregge o ci arriviamo abbastanza vicini da esserci liberati del problema del grosso del problema in autunno perché l'immunità di gregge anche se non ci arrivi comunque ti riduce in molto la crescita del virus il punto è quello cioè l'immunità di gregge chiaramente ai vacci ai vacci vuol dire che il virus a quel punto non riesce più a spandarsi ma anche ai vacci vicini vuol dire che si spande più lentamente vuol dire che si faccia controllare vuol dire che si riesce a gestire meglio l'onda successiva quindi l'idea diciamo è far bruciare la legna d'estate per poi non avere incendi l'inverno credo che giorgio voglia fare l'avvocato del diavolo giorgio esatto cioè rispetto a questa strategia che quali tipi cioè che tipo di non so che tipo di esatto che tipo di giorgio contro questa cosa giorgio che anche tu sei la a imperia no cioè la vedi anche tu così cioè l'hanno fatto scientemente diciamo o secondo te no aspetta aspetta non ho io ho detto prima che non è fatto scientemente ci sono dei gruppi che spingono per questa strategia appartamenti li abbiamo visti i gruppi legati alla great buying generation sono tornati cioè le stesse persone stanno facendo passione perché questa diciamo è finalmente il loro sogno però quindi però il governo inglese non lo stanno sempre facendo scientemente ma appunto anche perché per loro vuol dire non fare nulla non pagare un posto politico no certo certo solo per capire allora l'altro 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 lato dell'altro lato del problema quale sarebbe guardiamola così però se tu guardi i modelli che girano già da diversi mesi prima ancora che identificassimo delta no c'erano i modelli di warwick ed imperial e un pochino anche di london school of tropical medicine che facevano le vari scenari con base al contagio di un eventuale variante che poteva arrivare no e questi modelli mettevano nero su bianco che esisteva la possibilità di raggiungere un livello di specializzazione simile a quello di gennaio che era molto molto alto insomma il paese è andato in lockdown per quattro mesi cinque mesi dopo quella roba lì ora quindi la possibilità che questo potesse succedere c'è sempre stata e c'è ancora nei modelli chiaramente non sta a imperial non sta a warwick non sta a chi fa i modelli decidere se questa sia una strategia politicamente accettabile o no evidentemente johnson si è reso conto che il paese accetta quel numero di morti e poi il resto è quello che è successo anche in italia quando quando conte da novembre da novembre a gennaio in italia c'è stata una media di morti settimanali che era altissima un plateau praticamente piatto in cui si moriva come le mosche evidentemente andava bene così era un equilibrio che dal punto di vista politico sembrava accettabile quello i politici fanno così nel momento in cui decidono del resto del resto pragmaticamente la questione è quella cioè o effettivamente ti metti d'impegno e vai verso lo zero covid e hai zero morti zero casi zero tutto il che richiede ovviamente una preparazione non da poco richiede una capacità non banale ma altrimenti se non fai quello non c'è un'alternativa in cui mantieni 10 morti al giorno l'alternativa è cui spingi 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 e poi quando il sistema arriva al limite chiudi non puoi mantenere una linea costante molto molto bassa la linea costante sarà sempre la soglia di quello che ti serve per chiudere tutto quello accettabile prima del lockdown e questo è quello che non capiscono tutti quando si fanno i discorsi sui social che tu dici bisogna fare qualcosa e loro dicono funebre funebre però l'alternativa qual è l'alternativa è che non fai niente e poi l'unica cosa che ti l'unica carta che ti rimane quella del lockdown non esiste nient'altro quindi anche adesso negli ok io non lo so se riusciamo ad arrivare a settembre senza un altro lockdown secondo me non non è scontata questa cosa perché se guardi le curve di crescita delle ospedalizzazioni siamo 4 7 4 5 settimane dal picco di gennaio e il picco di gennaio è il picco in cui l'NHS va in va in completamente in pallone ora il governo dice vabbè siamo ad agosto un conto è il picco che ti arriva a gennaio un conto che ti arriva al picco d'agosto perché le condizioni sono diverse ma non so quanto sia affidabile questo ragionamento ma io credo che non sia affidabile cioè in questo calcolo è incluso che comunque vada l'NHS sotto una strastale da causare problemi enormi a lungo termine cioè questo per essere chiari questa strategia vuol dire fottere l'NHS e è anche possibile che non funzioni cioè anche 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 diciamo spingendo l'NHS al limite è possibile che in un certo momento scusa Luca se ti interrompo ti interrompo per dire una cosa che non la puoi dire tu cioè il governo inglese ha sacrificato scientemente l'NHS ha preso la decisione che l'NHS era il gruppo di quelli che attaccavano per primi in guerra nella guerra di trincea e che veniva eventualmente falciato completamente nel senso che si sa che la pressione il bottleneck di tutta questa epidemia non sono i morti perché purtroppo cinicamente se uno ci pensa i morti o o recovered o dead è risolto ok il problema è l'intasamento degli ospedali che siano poi terapie intensive o letti normali non ha nessunissima importanza e quello che mi diceva qualche medico che conosco bene che viene dall'NHS e che mi diceva che stavolta l'errore che fanno però all'Inghilterra aggiungo solo questa cosa e che l'NHS non è che era vuoto con le mani vuote l'NHS stava disperatamente cercando di recuperare i 4 milioni di prestazioni che non ha fatto nell'anno e tre mesi di pandemia per cui avevano dentro i pazienti di cancro i pazienti cioè stavano cercando disperatamente di recuperare il backlog quindi se li prendono li prendono che non li prendono vuoti capito questo è il tema vero capito e scusami ecco finito il pistolo questo è un altro punto importante ma il punto è che diciamo indipendentemente da quello già per come siamo ora quel quei 4 5 milioni di prestazioni attesa verranno posticipate non c'è maniera come diceva Giorgio non c'è maniera che ci sia contemporaneamente quindi quelle sono andate quelli che vanno noi i tumori i tumori che vanno operati in ritardo di dicendo vi posso dire che stanno già cancellando l'operazione diciamo in generale stiamo parlando di governi come quei conservatori che da anni che al di là di generiche affermazioni in principio non hanno mai dimostrato di avere nessun tipo di rispetto per l'NHS quindi non stiamo parlando di una politica nuova stiamo parlando di un fatto che è diciamo dato un po' per scontato nella politica inglese nel lungo tempo tenuto un po' nascosto al pubblico perché il pubblico è fio dell'NHS ma in concreto la volontà di smantellare l'NHS per chiunque abbia a che fare io ho persone a me che lavorano lì e chi ha da anni semplicemente in questo momento al governo va benissimo mettersi una situazione del genere come diceva Giorgio politicamente per loro qual è un prezzo che possono pagare ovviamente questo include anche appunto tutte le persone che sono malate per esempio il tumore che hanno bisogno di interventi non 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 critici immediatamente ma che avrebbero bisogno di operazioni a breve termine e molte di quelle purtroppo pagheranno il prezzo anche loro che aggiungeranno alla coda di morti della c'è una metafora molto usata criticate tutte eccetera che quella della rana nella dell'acqua che volano questa situazione per quanto sia float questa metafora è appropriata perché quello che è esattamente quello che è successo in questi 15 mesi di epidemia si è iniziato con una sticella molto bassa pensando anche se guardi comunque le dichiarazioni all'inizio la gente diceva cerchiamo di avere Stati Uniti dicevano cerchiamo di avere meno di 50 mila morti meno di 100 mila morti cioè la sticella all'inizio era molto ottimista nel senso che la gente pensava di riuscire a intervenire di salvare di fare poi man mano che i morti sono accumulati si è raggiunto un equilibrio in cui la gente alla fine dei morti se ne frega e vabbè amen se quello è il volere della politica così è ma il rischio grosso è che comunque più lasci correre più hai nuove varianti e più questa cosa va avanti ecco infatti volevo chiedere in quello scenario che diceva Luca che vabbè è stato lo scenario che è venuto fuori recentemente o no è così da un punto di vista evolutivo no come hai detto tu una volta mentre discutevamo sui social cioè lo scenario in cui la vaccinazione la popolazione è vaccinata sotto soglia soprattutto sotto soglia dopo che è arrivata la delta no perché ancora più sotto soglia di prima e tu lo fai circolare con numeri grandi è uscito proprio oggi proprio di london school un paper della gog sul di julia gog sulla sulla evolution e la possibilità loro provano a stimare anche le probabilità di variante eccetera eccetera che non so diventa un esercizio molto difficile non l'ho letto quindi non dico niente però ho visto che è uscito l'ha rilanciato Kucharski ma cioè da un punto di vista evolutivo senza andare troppo nello specifico dei modelli evolutivi del virus e di cosa cambia cosa non cambia nella spike eccetera o nell'NTD cioè come la vedi tu di far circolare il virus tanto mentre c'è una popolazione semivaccinata è esattamente la situazione con cui in realtà tutti sono familiari che è quella degli antibiotici no tu hai la mal di gola il dottore ti dà gli antibiotici ti dice questa è la scatola prendi tre antibiotici al giorno per una settimana sono 21 pastiglie devi prendere tutte tu prendi sti antibiotici dopo due tre giorni stai bene è passata la febbre ti è passato dal mal di gola stai bene non hai più nulla allora la tentazione che hanno tutti è quella io sto bene mi è passato tutto perché devo prendermi tutta la scatola di antibiotici che mi viene magari pure la cacarella finisco adesso dopo due tre giorni e basta ecco il motivo invece per cui il dottore ti dice devi prendere tutti i sette giorni è perché se tu fermi al terzo giorno pensando di essere a posto succede che selezioni varianti in quel caso batteriche che sono lì sono molto piccole sono molto silenti sembrano innocue ma che hanno sviluppato questa stanno sviluppando questa capacità di scappare dall'antibiotico ripegliano sopravvento a quel punto se continui di nuovo con l'antibiotico non funziona più è proprio il principio di base dell'antibiotico resistenza è il motivo perché se tu vuoi far venire impazzire un medico gli dici dell'antibiotico ne prendo soltanto due giorni quello giustamente è la stessa cosa si sta facendo con il virus cioè non puoi arrivare a un certo punto sembra che tutto vada bene sembra che dopo due tre giorni tu possa interrompere che possa ricominciare da capo e non finisci la cura della scatola e quello ti frega ti frega perché in questo momento cosa succede per dare un esempio i miei figli adesso sono sono guariti ma stavano male sono stati male tutte e due vengono a casa portano il virus nel loro corpo diciamo si sviluppano tante varianti perché questo è quello che fa il virus no si sviluppa tante varianti per sfiga una di queste varianti è una variante che riesce a beccare i vaccinati questo è tutto un discorso teorico no infettano me magari siccome io vaccino ho fatto già il covid gli anticorpi eccetera mi prendo questo virus ma non sviluppo tanti sintomi rimango magari asintomatico vado in giro vado al lavoro vado al supermercato passo questa variante e boh e si ricominci tutto da capo no ma infatti allora grazie Giorgio di questo che hai detto questo una cosa che non si ricorda è che allora il maggiore motore di questa pandemia sono stati gli asintomatici parlare di responsabilità individuale quando ci sono gli asintomatici a me pare assurdo no non so a voi ma a me pare assurdo soprattutto che adesso sono asintomatici vaccinati la responsabilità sarebbe personale ma quando tu sei asintomatico che responsabilità personale vuoi avere cioè non lo so altro chiedo a te a Gianluca va beh questa è una cosa di quella che abbiamo detto da sempre soprattutto davanti a quei mentecati che hanno fatto la gbd cioè questa cosa qua di far salire una binomia salire le infezioni tanto volenti o nolenti se sei responsabile o non sei responsabile adesso se ci si pensa a una gbd 2.0 quelli shield quelli che la gbd voleva non so shieldare in qualche modo che non si è mai capito quale fosse in dei camion in dei castelli nel molise che non esiste non lo so quelli a rischio adesso gli shield sono i vaccinati in teoria no mettiamoli che è quella la categoria no sono proprio quelli a rischio vaccinati eccetera ecco adesso tu fai girare il virus no e proprio per il principio del di una binomiale cioè che quelli lì non vengano prima o poi attaccati di un virus che poi sarà più o meno eh successful nell'infettarli o no io non lo so perché dipende dalla parte biologica no però è sicuro che quelli la vanno a contatto col virus perché c'è troppa circolazione proprio il numero della circolazione è grosso quindi cioè io francamente questa cosa della responsabilità personale in un fenomeno moltiplicativo che va molto più veloce di quanto la tua responsabilità personale riesca il tuo razziocinio eh perché poi cioè capito e in più sei anche asintomatico quindi sei inconsapevole cioè della tua responsabilità di portare una responsabilità sei inconsapevole quando sei asintomatico non sai che porti una responsabilità no non lo sai quindi è secondo me è un discorso lunare mi sembra di leggere ogni volta Harry Potter ma di che cosa parlano infatti l'errore grande del governo inglese in questo momento non è tanto di continuare con le riaperture perché alla fine le riaperture adesso come adesso non fanno una grossa differenza voglio direvamo 60.000 persone Wembley l'altra settimana cosa più di così che cosa vuoi riaprire cioè è già tutto quello che ho chiesto cioè lo step four scusate ragazzi ma rispetto allo step three con le scene che abbiamo visto che cazzo devono riaprire no infatti quello quello si dice riapri ma l'apertura è già tutto aperto quindi da quel punto di vista non cambia cosa mi ha detto scusa mi rido perché almeno ridiamo perché se no andremo vedo la scena l'est square il giorno della finale dove c'erano 100 milioni di persone con un una rumenta come la chiamiamo a Milano da di un metro c'è la parte le carte in terra eccetera eccetera e dico io scusate ma se questo è lo step three lo step four cos'è cioè voglio dire la guerra tra falgar square allora uno mi dice eh ma no non si può entrare al chiuso e io gli ho chiesto perché secondo te quelli lì quando sono entrati dal mcdonald sono entrati tutti in fila col biglietto un bigliettino come dal salumiere uno per uno con la mascherina ma c'è la gente è fulminata quindi un po sono d'accordo con te non credo che il contact rate dello step four sarà molto più no ma allora dunque delle cose cambieranno ma quello che cambia non è l'interazione sociale quello che cambia è essenzialmente le misure di contenimento del governo quindi cambiano essenzialmente due cose che è quello questo è quello che johnson ha annunciato di voler fare e che avrà delle ripercussioni sicuramente molto grandi se sei vaccinato non ti devi più isolare ok quindi l'idea appunto arrivano i bambini da scuola sono malati io sono vaccinato non devo stare a casa posso andare al lavoro posso andare a prendere l'autorapolitana questo ha delle implicazioni molto importanti perché vuol dire che io posso essere vaccinato ma sintomatico e quindi portare un virus resistente in giro non lo sapevo questo secondo me questo è questo è molto molto importante questo è molto importante secondo me è sottovalutata questa cosa esatto ma perché fanno così perché se loro nel loro modello hanno 50.000 100.000 150.000 infezioni al giorno se tu a quelli associ anche le persone del nucleo familiare che si devono isolare dopo 10 giorni è finito non lavora più nessuno sì infatti nessuno va più a lavorare perché se hai 150.000 infetti al giorno moltiplicali per quattro del nucleo familiare sono 600.000 persone al giorno che non possono andare a lavorare questa cosa mi fa molto ridere perché è quello cioè è la cosa che mi conferma che quelli che dicevano che ci sarebbe un trade off tra epidemia e economia non hanno essenzialmente capito il cazzo cioè io io ho visto stime di queste stime pubbliche ho visto stime siamo un milione e mezzo di persone cioè non sono mai piccolissime esatto quindi una situazione in cui hai 150.000 di contagio al giorno non è compatibile con provvedimenti in cui chiedi alle persone di isolarsi no quindi aggiungi proprio benzina sul fuoco perché hai tutti questi casi e in più lasci che le persone vaccinate magari asintomatiche appunto vadano in giro a portare questi virus che è il modo in cui selezioni varianti di escape questo è esattamente quello che sta succedendo l'altra cosa è che appunto abbandoni completamente qualsiasi tipo di tracciamento ma non neanche anche solo anche solo anche solo la contare i casi giornalieri non puoi più contare i casi giornalieri se ci sono 150.000 casi al giorno e cosa fai tu chiedi a tutti il sistema non ce la fa il sistema adesso non è tarato per 200.000 test di pcr al giorno se tu hai 150.000 positivi al giorno dovresti avere almeno un milione test positivi di pcr al giorno quindi vorrebbe dire aumentare il sistema inglese che è già il più alto del mondo di altre cinque volte è impossibile da fare quindi l'alternativa cosa vuol dire vuol dire che perdi il controllo del numero dei casi completamente e vai di nuovo alla cieca come andare alla cieca in queste condizioni in cui non hai il controllo del numero dei casi e le persone fanno quello che vogliono vuol dire quello che succedeva a Bergamo è la prima ondata esatto è la prima ondata Luca scusami chiedo a te perché sicuro lo sai i vaccinati perdono l'obbligo di riportare i sintomi come è successo in Israele in altri posti non ho mai avuto l'obbligo di riportare sintomi ah mai scusami credevo che ci fosse ma in che senso cosa intendi però per esempio uno dei problemi uno dei problemi di capire le infezioni sui vaccinati per esempio in Israele che ha fatto un lavoro diciamo dettagliato mentre c'era questa fase di vaccinare il lockdown eccetera era che però c'era un po' una falla perché per il sistema israeliano da vaccinato tu non avevi obbligo di riportare i sintomi tipo ranninoso così non dovevi riportarlo quindi uno delle falle di questo sistema è che non capivi se il virus passasse sopra il vaccino come le infezioni dei vaccinati non si capivano chiedevo se per caso in Inghilterra c'era un sistema per cui anche i vaccinati avevano dovevano riportare no no ma qui obblighi di quel tipo non ce ne sono mostrato c'è un'app che si chiama Zoe che si basa su quello cioè tu ti scarichi l'app di King's College se non sbaglio e ci metti i sintomi dici c'ho il noso che cola c'ho l'ambicola ma è totalmente volontaria però non l'avete fatta anche quella voi no Luca? no ma le stesse funzioni anche se con meno sintomi per varie ragioni che non discuteremo qui o se volete discutiamo non ha nessun senso diciamo con una scelta di sintomi un po' antiquata ma la stessa cosa è disponibile nell'app in teoria se l'app vede un sintomo ti esiste di auto isolati per 10 giorni e poi prenotare un test però è tutto volontario come si diceva quindi in una situazione il problema è tutto questo che in una situazione in cui si dice certamente che i vaccini hanno risolto tutto sono doppi vaccinati anche i vaccinati singoli che vogliono solo andare a fare feste di non importa niente del resto diciamo che non è chiaro quanto i politici stiano guidando e quanto invece stiamo facendo guidare nel senso che oramai non credo anche se diciamo se decidessero di dare una svolta in direzione di chiusure più serie non credo che avrebbero nessun tipo di consenso popolare cose moderate sì mascherine sui mezzi pubblici magari mascherine al chiuso mantenere magari qualche qualche misura per i non vaccinati ma il grosso della popolazione non supporta in realtà misure più estreme di queste che è un po' il dilemma in cui stava comunque stava comunque l'inghilterra perché comunque con queste misure non si ferma a dire al massimo si si rallenta un po' la cosa che c'è però scusami scusate io ho guardato i modelli attentamente perché io vabbè un po' anche per curiosità intellettuale no sono cose che sono molto interessanti se ti appassioni un po' no? e ho visto che diciamo nell'ultimo aggiornamento senza fare troppa polemica quello che varia tanto tra i tre ci sono allora intanto forse vale la pena di spiegarlo tutti questi modelli hanno dentro un sacco di assunzioni tantissime tutte discutibili tutte in buona fede tutte che Luca pensa che è una cosa io ne penso una cioè Warwick pensa una cosa e voglio dire non ce n'è una che la guardia dice ha più senso lui dell'altro cioè boh vanno tutte più o meno e però devo dire una delle cose dove cambiano tantissimo cioè cambiano di più che si nota di più è il contact rate cioè quasi tutti i modelli avevano in step 3 un contact rate più basso di quello che c'è stato cioè la mobilità in questo momento in Inghilterra se non sbaglio è pre pandemic quasi no? e non se l'aspettavano i modelers questo vedendo le versioni prima e sono rimaste ancora un po' delle differenze tra Warwick Londra e Imperial su quello che succederà dopo step 4 no? secondo me come dicevamo prima da un punto di vista cioè quello che ha detto Giorgio è giusto no? e quello è diciamo quasi intra host circulation cioè nel senso c'è un sacco di gente che magari cova delle varianti e se ne va in giro ma però cioè non so che differenza palpabile ci sarà tra cioè io per scherzo ho scritto che la cosa che cosa dobbiamo vedere un'orgia di 80.000 persone in una camera iperbarica perché tutto il resto l'abbiamo visto nel senso che gli stadi pieni la gente all'est square come quando andavo da studente eccetera non so non so ecco però quello che si vede nei modelli è che ci sono varie assunzioni un po' diverse sui contact rate però c'è a onore degli inglesi che io ho criticato per altre cose su alcune robe in un thread che ho fatto le prime quattro pagine del consensus statement di SPIM di SPIM di SPIM che dicono quante siano le incertezze di tutte queste robe che hanno scritto e infatti se si guardano le curve delle ospedalizzazioni vanno dai 40 per cento del picco di cui si parlava prima al 132 per cento del picco di cui si parlava prima ecco io voglio chiedervi questo ma secondo voi mettiamo anche che sia remota la possibilità no ma cosa succede se veramente l'NHS è travolto cioè perché da da persona che lavora più sull'economia cioè io non credo che con gli ospedali travolti la gente va a far shopping no ma se le necessità travolto devono fare un altro lockdown cioè la risposta behavioral sull'economia di una situazione in cui tu cominci a vedere i titoli la gente gli ospedali che chiudono e che ti rifiutano una prestazione normale non è una risposta behavioral cioè non è che uno dice vabbè allora domani vado a comprarmi una macchina mi sono spaccato un braccio non possono curare ma vado a comprarmi una macchina cioè non funziona così ma no ma è l'NHS cioè il sistema sanitario che va al collasso come ci siamo arrivati vicini diverse volte come se era Bergamo eccetera vuol dire che la gente muore in casa cioè è chiaro che quella è una situazione che non può ignorare cioè l'idea l'idea ho capito cosa vuoi dire tu io quello che volevo dirvi è si fermano prima o devono siccome non c'è capitale politico da spendere per far chiudere prima devono proprio prendere la facciata ma no prenderanno cioè prenderanno la stessa facciata che hanno preso finora perché alla fine comunque qualunque sia la crescita quelle due settimane di buffer ce l'hai per evitare proprio il tracollo e quindi faranno come hanno fatto a dicembre se dovesse essere magari non è però se dovesse essere così faranno come dicembre faranno come marzo che arrivi lì lì e chiudi secondo te Luca con la delta ce l'hai lo stesso perché secondo me il buffer di due settimane non ce l'hai più secondo me ormai all bets are off nel senso che la situazione è stata molto più complessa cioè prima onestamente era tu potevi fare un modello come fare la tua tempiera all'inizio con cittina di parametri e poi quelli che contavano alla fine erano 3-4 parametri composti e basta questo è l'inizio quando le cose erano semplici adesso siamo in una situazione in cui ci sono una marea di varianti di parametri che cambiano si comincia a contare com'è il mix tra le classi d'età comincia a contare com'è l'efficacia del vaccino sulle diverse classi d'età comincia a contare letteralmente a quel punto qual è l'efficacia sui vaccinati sugli infetti precedenti comincia a contare tutta una serie di parametri per non parlare di tutti i parametri di mobilità ma i parametri comportamentali che io solo sa come si comportano i modelli a questo punto sono un bilancio fine su tutti questi parametri io non vedo come sia possibile che continuino a i modelli no Luca però voglio dire solo a modellare perché a un certo punto le incertezze sono enormi però Luca se la crescita va a questi ritmi adesso noi stiamo crescendo in maniera molto prevedibile quindi tu quello che devi fare è vedere dove saremo fra due settimane fra due settimane è abbastanza facile dire dove saremo fra due settimane è molto difficile dire dove saremo fra due mesi ma dire dove saremo fra una settimana o due è facile quindi se arrivi lì per lì a essere sul tracollo quello lo puoi ancora fare indipendentemente da tutte le variabili è un po' la differenza tra clima e weather and climate cioè il modello come dici tu che prevede il climate è super complicato perché hai come cambia la diffusione di un 37enne che ha fatto una dose di AstraZeneca 15 giorni fa da uno 39enne che ha fatto due dosi di Pfizer 7 giorni fa e quindi lì è impossibile cioè tiri il dado però invece prevedere se adesso voglio dire se tu guardi l'andamento esponenziale degli ospedalizzazioni è una linea retta quindi capire dove saremo martedì prossimo è abbastanza semplice questo è vero però cominciamo a avere a questo punto cominciamo a avere una serie di epidemia parzialmente separate sia geograficamente che come classi d'età e in cui tutti i mixing cominciano a contare quindi sono possibili comportamenti un po' strani per dire io credo che certe fasce più giovani stiano saturando non è chiaro se per i primi muti di gregge o per altre ragioni però stiamo arrivando a saturazione dell'epidemia cioè al picco in certe fasce ma tutte le altre magari aspettano magari sono quelle che ti causano la maggior parte dei problemi quindi non mi è chiaro mi chiamo così sui casi in certi contesti io vedo il tuo ragionamento ma sugli ospedalizzati considerando che anche che non sappiamo ancora bene quanto si è quanto si è dovuto dal vaccino le varie casse d'età quanto come si mescoli c'è il rischio che la cosa si insomma c'è il rischio che magari metti caso una scena possibile si aspettano di arrivare giusti al picco quindi sono tranquilli e il picco anziché se è un picco è un plato lunghissimo che insatua tutto come fai a poi a vederlo? vedi che sei arrivato al picco ma poi non puoi più cioè non sei più sicuro se dopo il picco vieni giù subito dopo il picco il plateau e c'è una grande plateau questo sugli ospedalizzati fa una differenza enorme quindi secondo me a questo punto siamo veramente in una situazione pericolosa da quel punto di vista in cui potrebbero anche perdere il controllo pur non volendo anche perché conoscendo i politici se vedono che sei arrivato al picco loro diranno sicuramente andiamo avanti non chiediamo niente e se poi appunto il picco si riveva una combinazione di tiki bite tra le varie classità che porta a una situazione più complessa è tardi quello che un po' si è visto in Francia ma anche in Italia nel senso che la cosiddetta seconda e terza ondata in Francia ha fatto più morti della prima quando eravamo in una situazione esponenziale senza certo eravamo arrivati al plateau un po' questa cosa qua io lì ho visto bene quello che dice Luca gli ultimi giorni dove si vede che i tassi di crescita dei contagi tra i giovani stanno cominciando a scendere ma ma tassi di crescita sto parlando di questo ma allora devo io mi levo il cappello davanti alla raccolta dati degli inglesi perché io non l'ho mai visto nella mia vita una roba così allora PAC fa una raccolta dati puramente behavioral su una categoria che loro chiamano CEV cioè Clinically Vulnerable e per esempio in quella classe di età Luca dove la gente fino a due settimane fa si muoveva circa il 50% meno del pre-pandemic level pur da tutti i vaccinati tutti i vaccinati perché tutti quelli lì sono tutti vaccinati doppia dose avevano comunque un movimento del 50% in contact rate inferiore del 50% a pre-pandemic e quindi anche lì questo è uno dei problemi nel calcolare della vaccina la vaccina efficaci su quella classe lì perché cosa ne sai che è il vaccino o è il fatto che il contact rate è la metà fare l'untangling di quella roba lì è impossibile è difficilissimo è impossibile ecco però quella classe di età lì l'ultimo report che è uscito io li giro tutti a Michele e Tizioni perché loro sono interessati a quella parte lì l'ultimo report che è uscito quel contact rate da meno 50% è andato a meno 25% per esempio quella roba lì che dice Luca che potrebbe cominciare a una rotazione dei picchi dei contagiati tra le varie classi di età non è una roba peregrina perché capito potrebbe succedere davvero no vabbè allora Gianluca ti posso dire come sono andate le altre ondate adesso come sono andate le altre ondate abbiamo visto i picchi prima nei giovani e poi mano a mano andare sempre verso le classi di età più alte più a rischio è sempre andata così dalla seconda diciamo dalla seconda terza ondata in poi è andata così per quanto mi ricordo va bene correggetemi se non è così è così ma il punto che voglio fare io è che finora in Europa questa cosa si è gestita con arrivare quasi al limite quando non c'è più niente da fare fai il lockdown quindi la questione è stiamo adesso in una situazione in cui questa strategia disperata non funziona più secondo me no questa strategia disperata funzionerà comunque cioè arriverai a un nuovo limite e farai il lockdown voglio dire il lockdown ti salva in un modo o nell'altro ti salva perché quello nel momento in cui fai il lockdown è finita tutta non importa più cioè no no ma hai ragione Giorgio no no io scusami io ho sempre in testa che perché sono fatto così io infatti non faccio politica che magari uno si vuole fermare prima no ma no e dico e dico con la variante con la variante delta no che ha questa trasmissibilità qua al massimo dopo cioè io dove dove non sono competente d'accordo con Giorgio io temo che invece cerchi un po' di sforare cerchi di sforare è chiaro che finora hanno sempre spinto hanno sempre spinto sempre un pochino di più un pochino di più un pochino di più può darsi che con questa ancora si proveranno non lo so però perché voglio dire c'è anche un costo politico nell'avere delle immagini da catastrofe la gente poi pensa che magari le immagini da catastrofe ci sono perché il vaccino non funziona mentre invece le immagini da catastrofe ci sono perché è vaccinato soltanto il 40% della popolazione e quindi c'è anche c'è anche quella cosa lì non lo so ci sono tante cose in ballo è molto complicato l'altra cosa secondo me è che potrebbe incidere il profilo d'età di quelli ah è chiaro perché perché se si vede massicciamente giovani che stanno male o se si vede per esempio massiccio long covid nei bambini nei bambini ne prende nessuno permetto cioè io io dico chiaramente io ho porto via mia pia dall'Inghilterra perché col cavolo che attengo in Inghilterra in mezzo a un altro giorno o una cosa del genere però la verità è che a nessuno ne frega niente a meno che non ci siano andati long covid massicciati se no quello è un altro grande problema allora allora ho discuso con Gianluca molte volte i costi economici del long covid secondo me sono molto sottostruttivi ma anche a livello cioè a livello proprio di quanto ti costa annualmente a livello di livello di spesa che un governo deve mettere mettere in piazza per fare per trattare questi casi qua secondo me è molto sottostimato molto sottostimato ma anche ma anche non solo poi la spesa diretta anche il fatto che tu hai delle persone magari che non possono lavorare una condizione invalidante una condizione invalidante che magari non possono lavorare cioè capito quindi io io sono onesto io in tutta tutta l'epidemia che in questo da questo punto di vista sono un po' controcorrente cioè io quello di cui ho paura non sono neanche non è neanche il long covid per me sono quelle che io chiamerei le non unknowns chiamate come volete cioè il fatto che questo qui è un virus di cui non si chiama un tubo stiamo capendo ora gli effetti a livello di stilopressa il sistema nervoso a livello a livello di problemi cardiaci infiammatori sì gli unknowns esatto cioè non si chiama nulla questo qui è un virus che per la prima volta è intercordato col nostro corpo sostanzialmente scatena una quantità di reazioni varie eventuali di cui ignoriamo qualunque cosa che magari è possibile che su bambini abbiano meno effetti non non ne idea e non mi mettere a scetturare su questo però in generale potrebbero lasciare polemia lungo termine magari sono piccoli magari sono piccoli numeri magari no magari sono piccoli ma accumulativi su grandi numeri esatto mettiamo mettiamo a caso che ci sia un qualche tipo di problema appunto ad esempio diminuzione materia grigia del cervello tra di una cosa che si è vista su scala dell'intera popolazione non è un problema trascurabile se poi hai percussioni o polimi infiammatori altri altri problemi che si portano a lungo termine non ho nessuna idea di cosa questo virus faccia il corpo ma lo e onestamente il mio punto non è neanche che possiamo provvedere o non possiamo provvedere il mio punto è in generale io quel poco che capisco di interazioni virus ospite è che tipicamente sono molto difficili da provvedere anche quando uno sa già cosa fanno cioè se io so cosa fare il virus prendo l'ospite e mi va a studiare biologia molecolare già lì è difficile capire cosa sta succedendo abbiamo un virus di cui non conosciamo praticamente niente e questa è la cosa che mi preoccupa molto anche in ottica bambini perché appunto lasciando andare l'infezione naturale se c'è un problema anche piccolo però sulla scala di una generazione ci stiamo andando a cercare dei problemi io personalmente per mio figlio soffresco di Talor e ha un posto per me di Talor però mi rendo conto che in Inghilterra purtroppo questo problema esiste non c'è non c'è neanche una maniera semplice di di Talor onestamente perché io vedo tutti la maggior parte dei miei colleghi ad esempio la situazione non è che possono mollare prendere andare in un altro paese facilmente e non c'è non c'è una maniera di scappare tra la maggior parte delle persone e di evitare il virus in una situazione in cui ci sono dei problemi del genere tutti si devono prendere da un lato o dall'altro quindi è una situazione molto c'è una situazione molto difficile secondo me dal punto di vista della pubblica perché ci sono queste conseguenze di cui non sappiamo ancora abbastanza che sono potenzialmente un problema e però sono anche difficili da includere politicamente perché politicamente decide pagare un prezzo per una cosa che non c'è e è un po' anche come l'Union Escape la mia impressione è che c'è Giorgio ha perfettamente ragione a dire che c'è un pericolo grosso l'Union Escape o più che altro se arriva l'Union Escape quella magari il pericolo è piccolo ma si arriva scombina completamente tutti i piani per il futuro completamente la morte scusami quello che stai dicendo Luca è quello che noi modelliamo nelle code è uno di quei danni catastrofali che no ma esatto essenzialmente quello che si sta dicendo che con i nuovi vaccini basta fare una piccola modificazione al vaccino mRNA e noi siamo tutti a posto però poi devi fare le vaccinazioni che non è evidente capito non è evidente io lo vedo possibile che se c'è ad esempio un escape minore che alla fine diciamo si continua ad andare avanti ma ha poco impatto noi non sappiamo quanto quanto sia la probabilità di un escape che causa solo un pochettino più di resistenza al vaccino e un escape invece causa resistenza grossa l'escape che causa resistenza grossa è l'evento catastrofico ok è quello veramente pericoloso perché a quel punto sostanzialmente la tua campagna è vaccinale se c'è un escape piccolo diciamo una che porta facciamo la resistenza resistenza al vaccino dal 25% al 50% magari è ancora controllabile con un po' di misure classiche e poi c'è tempo per fare boost vaccinali invece se arriva l'escape grossa quella per cui sostanzialmente il vaccino magari funziona solo a un 25% o un 20% che ne so a quel punto la campagna vaccinale serve poco a niente la trasmissione riprende via dicendo e siamo e credo che sia quello scenario peggiore io scusami Giorgio tu hai seguito questa roba qua perché so che guardi Israele lo chiedo a te per quello cioè gli israeliani sono usciti con un articolo di giornale dove poi io non ho visto il paper che dicevano che vedevano il waning a sei mesi a un certo punto dimmi se sto dicendo sbagliato vedevano il waning a sei mesi e Pfizer che sta usando Israele chiaramente come laboratorio perché hanno proprio degli accordi col governo è volata al volo a presentare il booster all'FDA al volo sono andati a presentare il booster e io ti dico ho sentito la conference di BioNTech sugli earnings e abbiamo fatto delle domande a Sain che era l'in-conference con gli analisti che ha detto che loro preparavano il booster sulla B135 la B135 quella sudafricana perché era quella che aveva più escape delle altre e che comunque loro la preparavano perché dovevano avere diciamo così un protocollo pronto per non essere che dovevano partire da zero nel senso iniziamo a fare sta roba poi non sappiamo se serve però almeno abbiamo istruito un processo produttivo perché se serve però mi ha fatto molta impressione che subito dopo la roba di Israele dove i casi sono ripresi come è noto questi qua siano volati da Fauci immediatamente e Fauci gli ha detto però non serve eccetera eccetera però quella roba lì tu scusami Giorgio come l'hai vista perché so che sei attento Israele è stato uno dei primi a guardare cioè la vedi che sono preoccupati sul serio ma non lo so perché c'è appunto c'è effettivamente c'è ovviamente una questione industriale chiaramente Pfizer la moderna conviene vendere un booster questo è innegabile quindi qualcuno può dire è chiaro lo fanno perché vogliono perché vogliono rendere di più perché vogliono i profitti e su quello io non sono assolutamente in grado di fare nessun commento non ho idea dal punto di vista scientifico io se dovessi scommettere scommetterei in una terza e anche in una quarta dose io secondo me ogni anno per i prossimi dieci anni faremo richiami non sarà una questione una situazione diversa da quella dell'influenza secondo me si va in quella direzione però appunto è una però c'è anche un R0 diverso dall'influenza no quello che bisogna capire è se possiamo permetterci di vaccinare soltanto le persone a rischio o se bisogna di nuovo riconoscere tutta la teritera non è semplice sì no no è chiaro io ti devo dire la verità che magari sono ingenuo io io quando ho visto quelli di BioNTech BioNTech quindi non Pfizer che Pfizer fa levy lifting nella GenV nel senso gli fa la parte di produzione ma cioè ti dico la verità io ho visto Sain molto più concentrato sulla sua pipeline diciamo Cancro e altro cioè lui vabbè ovviamente è contento che ha risolto sto problema magari piglia il Nobel insieme alla Cartico cioè a quelli di Moderna di là però però non so mica se a BioNTech gli interessa di più continuare a combattere da un punto di vista economico continuare a combattere questa battaglia qua dove tu comunque è un contraente di fronte che cioè non è esattamente il più facile del mondo perché gli stati cioè non è che a un certo punto sì tu hai il vaccino ma poi magari tra dieci mesi non sei più neanche l'unico e dall'altra parte dello Stato no ma infatti perché molti pensano che il business dei vaccini sia chissà che business ma infatti io non sposo questo punto di vista malizioso che tanti hanno secondo me però appunto non essendo nel settembre parlando con loro diciamo aspetta se io fossi Pfizer direi ragazzi se ci serve il booster decidiamolo adesso perché è inutile che poi mi venite a dire a settembre che vi serve il booster ottobre che vi serve il booster e siamo di nuovo punto a capo quindi quando CDC e FDA e Fauci e tutti gli altri e Burioni dicono non esiste nessun dato al momento che dice che serve il booster è grazie al cazzo se ci fosse lo faremmo però tutta la la gestione della pandemia è tutta questa non puoi aspettare che arrivi il dato perché se aspetti che arrivi il dato il dato arriva e ti mette pecorina ma questa cosa mi fa veramente imbestialire cioè che dopo 15 mesi non si sia capito che devi anticipare è una cosa non so al di là del bene del male voglio dire è chiaro che Pfizer ti dice se vi serve il booster a ottobre me lo dovete dire subito non è che arrivate voi l'ultima settimana mi dici dammi 500 milioni di booster c'è un aspetto ancora più e dico in questo punto giustissimo che appena ha detto Giorgio che è il fatto che tutto sommato il costo di un booster rispetto al costo di questo qui è il problema del costo privato e il costo sociale esatto bravissimo se prendi se prendi incluso il fatto che il booster possa dare ma io ve lo dico perché i numeri li so ragazzi mettiamo giù i numeri così la gente capisce allora fai BioNTech guadagna nei prossimi due anni dai vaccini covid 7 miliardi netti 4 quest'anno 6 quest'anno scusate 9 miliardi netti 6 quest'anno e 3 l'anno prossimo diciamo che Pfizer guadagna uguale non è uguale ma va bene 18 raddoppiateli su Moderna ok 36 36 miliardi ok sulle dosi quanto è costato tutto il troiaio che abbiamo visto quanto costa un giorno un belino di più allora un giorno di lockdown perché appunto quanto costa un giorno un giorno di lockdown esatto quanto costa un giorno di lockdown bravissimo stiamo parlando di stiamo parlando di due robe con due ordini di grandezza che non sono comparabili ma neanche minimamente e quindi cioè quando fanno questi discorsi di a Pfizer guadagna troppo a BioNTech guadagna troppo sì ma tutti gli altri loro guadagneranno troppo poco non lo so non sono marxista non so qual è il giusto profilo però gli altri quanto cazzo perdono se quei due non guadagnano perché è abbastanza a fare esatto ti basta un giorno di lockdown come diceva Luca un costo di un giorno di lockdown possiamo farlo la flessione del pil italiano solo italiano l'anno del covid 2020 che è stato l'11% equivale in soldi a circa 200 miliardi di euro quei due li hanno guadagnato abbiamo detto nei prossimi due anni guadagna 36 cioè di cos'è che parliamo solo quello italiano perché poi sono quelli degli altri quindi cioè di cosa stiamo parlando vabbè adesso ti diranno non capisci un cazzo uno è il flusso l'altro non è il flusso vabbè ho capito non è che stiamo qua facendo una lezione di economia però uno è il valore aggiunto l'altro non è il valore però cioè quello che voglio dire è che si parla ogni tanto bisogna anche rendersi conto delle cose di cui si parla e tra l'altro poi magari questa è stata una situazione veramente quasi di quasi monopolio dei due ma non è che poi nei prossimi tre anni tutti gli altri stanno là a guardarli no è arrivato qualcun altro che il vaccino ha proposto a prezzo di scosto a tutto il mondo è stato spuntato addosso dalla mattina alla sera come sapete tutti adesso qua però tu però fai il comunista però perché tu hai il conflitto su AstraZeneca è conflitto di interesse in questo momento vabbè no diciamo una cosa che non l'abbiamo mai detto la comunicazione su AstraZeneca di tutti quanti disastrosa è una roba che peggio di così non so cosa si poteva fare c'è ancora un po' il problema non era il covid era AstraZeneca cioè capito qui no comunque qui nel Regno Unito non c'è stato quel problema in Europa si fuori da lì fuori da lì e ecco lì io sono un po' malizioso cioè che l'FDA non approvi solo AstraZeneca ah no no non è malizia allora non è malizia esatto pensare male si fa peccato ma sei sempre ottima cioè voglio dire ha provato J&J che è la stessa cioè il tipo di meccanismo è uguale come la scelta di AstraZeneca non è casuale al posto di Merckx e via dicendo cioè la geopolitica ha causato tanti di questi vaccini dall'inizio alla fine sì sì non di scopo purtroppo ha anche diciamo causato di pasticci notevoli specialmente con AstraZeneca la cosa che mi sconvolge ad esempio è che ho scoperto l'altro giorno che il test sostanzialmente ha deciso che non vuole più non vuole più spedizione di AstraZeneca cos'è scusa? il test ha deciso che non sospendere l'Italia non ce l'ha più sì però la cosa che non capisco è io in questo momento se fosse in Italia se fosse in qualunque fase europeo io comincierei a formare dei problemi e a vaccinare come se non ci fossero domani realmente perché in questo momento l'unica difesa l'unico vantaggio dell'Europa non è il fatto di essere avanti nella campagna di vaccinare perché diciamo tutta l'Europa è indietro nella campagna di vaccinare quindi se non accelerano fanno esattamente la stessa cosa che stanno facendo in Inghilterra come strategia folle che vi hanno descritto però fatta in autunno con le scuole aperte e quindi e quando inizia la stagione di virus aspiratori cioè a me non preoccupa l'Inghilterra a me preoccupa perché l'Inghilterra è una stagione no ma infatti guarda ti posso dire brutta ma ci sono state un sacco di critiche al fatto che Macron abbia messo queste misure più rafforzate al pass sanitario secondo me l'unica cosa buona di questo tipo di strategia di Macron comunque breve termista in un senso e comunque ti aumenta il livello delle vaccinazioni nel senso che in tre giorni hai avuto tre milioni di persone in più che hanno fatto hanno domandato di andare a farsi vaccinare in Francia sappiamo l'unica cosa buona di questa strategia quella lì che poi in Francia sappiamo benissimo che c'è una vaccine resistance sì no esatto sì sì esatto i peggiori in Europa tra i peggiori in Europa mettiamola così l'unica cosa buona di quella strategia lì è che comunque aumenti di livello almeno il livello di vaccinati cioè l'unica cosa buona io posso dire una parola sul passaporto vaccinale non discuto la parte epidemiologica del passaporto vaccinale cioè che come abbiamo detto fino adesso anche i vaccinati possono essere portatori del virus asintomatici o sintomatici che siano eccetera eccetera ma lì ci sono delle conseguenze distribuzionali micidiali perché tu stai dando dei diritti ai vaccinati che i non vaccinati non per scelta ma perché non hanno potuto essere vaccinati perché non c'erano i vaccini non era il loro periodo della classe di età eccetera eccetera quindi quel tipo quel tipo di sì ma Gianluca ti posso dire la verità quel discorso lì vale quando c'è una restrizione nell'offerta non è più il caso cioè non è più il caso non è più restrizione però scusami Tomas pensa a delle intere classi io penso tipo i lavoratori stagionali d'estate quelli non hanno 50 anni cioè quelli ne sono giovani cioè in teoria se fosse applicato strettamente la questione del passaporto vaccinale tu devi avere i camerieri dei ristoranti negli alberghi eccetera tutta gente di 50 anni perché se fosse così stretto rigido cioè tu quella parte ma perché cioè c'hai comunque una c'è cioè l'offerta potenziale di vaccini è molto superiore alla domanda no non è così non è così ma perché dici così io non capisco cioè poteva valere due mesi fa non ci sono abbastanza vaccini neanche in Italia Thomas per vaccinare tutti non ancora poi arrivano arrivano ma no ma secondo me cioè sì per l'amor di Dio non tutti dall'oggi al domani però no esatto c'è proprio un sfasamento temporale per cui è l'unica cosa che vedo è che almeno per qualche mese tu hai delle conseguenze distribuzionali poi dopodiché sì certo dopo tra sei mesi no però ci sono dei bottleneck per esempio sull'estate che sono evidenti almeno a me nel senso che no 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 ma certo quello nessuno lo nega cioè che nel breve periodo ci sono quei problemi lì però questo discorso qua era molto più stringente vabbè certo prima non si poteva proprio guada che una maniera per risolverlo è molto semplice è semplicemente dire che cioè che ad esempio tra un mese tutti tra un mese tutti quei che hanno la prima dose non possono più entrare tra un mese hanno un mese per passare vedrai che si fa tutti e poi dici dopo altri due mesi hai ragione ma in Francia ha fatto così infatti cioè hanno fatto così però però è tra un mese non è che è da domani però però noi non abbiamo siccome l'Italia poi ha dovuto cambiare i fornitori eccetera non abbiamo un dosaggio tale da risolverci però comunque diciamo è un problema breve è un problema che secondo me va risolto e si poteva anche ovviare imponendo test periodici cioè onestamente quello che mi dà un po' fastidio di tutta questa situazione è che come al solito è una situazione di emergenza cioè non è un piano che quattro mesi fa sei mesi fa si è detto faremo il pass vaccinale faremo questo faremo quello da una settimana all'altra Giorgio per risolvere il problema di cui parlavo io potevi anche dire categorie di lavoro cioè contratti di lavoro temporanei che devono lavorare cazzo ne so nell'albergo in costiera romagnola quelli lì li vacci cioè ti faccio non puoi lavorare perché qua non è c'è lo sbattimento del pass vaccinale che noi discutiamo con i decerebrati di Twitter delle discoteche ma se quello ti impedisce di lavorare perché tu hai 26 anni e facevi il cameriere al ristorante della spiaggia quello non è la discoteca capito è un'altra roba allora bisognava come dici tu Giorgio avere un piano e pensare che chi doveva lavorare in quel momento era uno di quei lavori necessari come eravamo lavori necessari durante il lockdown qualcuno lavorava qualcuno no e bisognava fare un piano per cercare di andare in diagonale su quelle categorie là che erano necessarie a far aprire gli esercizi d'estate ai vaccinali ma infatti si vede tutto poi poi questo dilemma in quello che ha detto oggi che era Sileria credo che abbia detto oggi per adesso pass vaccinale in Italia ancora non lo facciamo se arriviamo a livelli insostenibili lo metteremo beh questa cosa dà molto fastidio infatti dà molto fastidio cioè io rispetto Maccarona a questo punto perché mi sembra l'unico che ha deciso ok c'è una situazione in agenza almeno quello cioè l'Inghilterra infatti era il mio discorso appunto era il mio discorso almeno quello cioè in questo momento sbagliare ma fare qualcosa secondo me ma lì sai che credo che un po' io ho visto il modeling di Vittoria quello che è uscito due giorni fa credo che un po' lui si sia convinto perché ha visto cosa succede non ci sono vaccinati infatti esatto mi pare che la situazione negli ospedali non sarà buona mettiamola così la Francia ha un ottimo sistema sanitario ma non è che posso cioè contro questo non so cosa e poi sai cosa la gente non si ricorda che magari anche per montare la risposta immunitaria ai vaccini hai bisogno di quattro settimane questo cosa qua in quattro settimane se circola fa un massaccio due dosi per le dosi sì dico se fai la due dosi a due settimane no ma infatti allora quello che ti volevo dire io che a livello epidemiologico come diceva Giorgio è una cazzata perché ti arriva come sempre all'ultimo minuto e fai incazzare tutti però almeno qualcosa hai fatto nel senso non è l'ultimo almeno arriva a quel livello lì che ti aumenta in questa popolazione completamente che almeno arrivi rispetto ai vaccini ti hai aumentato diciamo così arrivi per settembre che c'hai un po' più di vaccinati non conterà nulla a livello epidemiologico è vero però vabbè magari se mettessero sull'alta misura potrebbe contare l'Europa un minimo ipim un minimo immaginazione il problema è che però non l'ha usato non lo faranno Luca perché la cosa che discutevo con Thomas privatamente è che purtroppo le indicazioni di policy che sono venute dagli inglesi è difficile andargli contro cioè o gli inglesi prendono una facciata e gli altri si fermano oppure a sto punto è difficile trovare uno che dice faccio diverso dipende anche dallo stato di vaccinazione Gianluca noi abbiamo comunque più vaccini più seconde dosi più rinedosi io mi auguro di sbagliare ma non vedo tanta volontà diciamo di prevenire nel resto d'Europa per niente dicendo che se le cose vanno come dice Giorgio gli inglesi prendono una trambata nel muso a metà agosto il resto d'Europa si prende una doppia trambata nel muso a metà settembre una settimana dopo in Francia sono tre settimane di ritardo rispetto settembre si cambia di nuovo tutto marcia perché ricominciano le scuole quindi settembre è tutta un'altra è tutta un'altra marcia io vi dico la verità io da un certo punto di vista cinicamente essendo lontano dall'Inghilterra in questo momento la strategia di bruciare tutta la legna in estate finché non brucierebbe il suo non è cioè è una strategia particolarmente rischiosa per l'inno escape e con con un costo altissimo sociale ignorabile probabilmente però al di là di quello come strategia in generale potrebbe vagamente funzionare io la stessa cosa che la stessa cosa vista applicata a settembre ottobre io la vedo veramente si sono completamente d'accordo sono assolutamente d'accordo piuttosto capisco l'Inghilterra che dice voglio che non la capisco non posso personalmente approvarla ma capisco il senso certo certo no quello che tu dici è la capisco ma non la condivido no questo stai dicendo sono andato appunto per evitarla quindi no no io però invece scusami invece c'è la verità è che non ci sono alternative facili tutte alternative che chiedono no però scusami Luca io io su questa roba qua posso così facciamo una litiga non sono d'accordo per niente perché io capisco che adesso tu dica così ma questa scelta non era ineluttabile ah no vabbè questo adesso puoi anche dire così ma cioè quegli idioti che ti dicono che se questa roba ha un RT cioè ma se tu se tu contieni l'RT non l'R0 è vero che quello non lo puoi cioè è quello ma l'RT lo contieni l'epidemic size cambia ok cioè non è che l'herd immunity è la stessa ok quindi questo non accordo quindi questa scelta non era ineluttabile tu potevi guadagnare tempo per fare le vaccinazioni più sparato potevi fare delle altre c'era un'altra cosa da fare allora che questi poi facciamo un discorso politico non abbiano pensato di avere il capitale politico da spendere per rimandare un'altra volta lo step 3 o lo step 4 quello che vi pare a voi ottenere gli stadi vuoti durante gli europei quello che vi pare cioè che questo qui fosse politicamente un costo insostenibile non dico niente ok ma che non ci fosse un altro modo di gestirla no cioè non sono d'accordo si poteva gestire in un altro modo per svariate ragioni che ci avete spiegato culturali e non politiche c'è tanto british exceptionalism dentro secondo me ok per tante ragioni hanno deciso di fare una cosa diversa ma non è l'unico modo cazzo cioè non è che inerroccabile che tu devi bruciare tutta la legna questo che voglio dire io posso passare in modalità cinica come in genere non sono una persona cinica ma in questo momento da un certo punto di vista di public health le cose mi forzano un po' essere più di quanto vorrei allora io sono d'accordo con te ci sono due state di io secondo me una è quella vuoi bruciare tutta la legna a quel punto se uno fosse abbastanza sicuro di tenere le spiega le dizioni controllate tanto vale bruciare le state è quello che pensano loro il rischio grosso è che gli esploda la corda tra le mani perché hanno fatto bene i calcoli è interamente possibile però la loro idea è che se riesco a far andare a gran parte e a quel punto va bene anche che sia che l'epidemia sia bella calda con un'errochi abbastanza alto anzi perché a quel punto hai bruciato veramente molto più legna cioè arrivi all'acciaio di greggia overshoot quindi bruci di più questa è una strategia la seconda strategia sembra quella più razionale credo che sia quella che gli epidemiologi in generale in intera preferirebbero che è va bene non contare l'epidemia perché non ce la facciamo ma cerchiamo di mitigarla di tenere R moderato R 1 punto qualcosa diciamo non vogliamo arrivare a 2 vogliamo tenere 1 punto qualcosa avere un'onda moderata in modo che la possiamo controllare e spargerla nel tempo ovviamente e in modo che noi possiamo anche recuperare sulle vaccinazioni il problema il problema di questa strategia fondamentale secondo me è un problema più pratico nel senso che c'è sempre stata poca volontà di intervenire seriamente dal punto di vista delle misure di mitigazione del virus di quelle che costano poco non dico le chiusure e via dicendo ma parliamo di misure quelle che sono mantenibili a lungo termine quelle che anche in questo momento potreste avere al di là delle mascherine si continua a parlare di ventilazione un anno e mezzo dopo cioè se non mi è impatta ventilare da marzo 2020 a ora ci metterò a ventilare da luglio agosto io credo che la verità è che cinicamente certe lezioni che non si sono prese in 15 mesi non le andiamo a prendere nel prossimo mese non è realistico quindi ci si troverà a settembre con relativamente poco tutto questo fatto e non è che lo diciamo volentieri però la verità è che se si trova dovrebbe il tracciamento se il tracciamento facciamo ancora come dei cani dopo 15 mesi in tutti i paesi occidentali i prossimi due mesi non cambiamo niente anzi per come vedo il processo di sigenare io cioè scusate no ma lì ha ragione Giorgio cioè il momento che la fai andare tutti gli incentivi anche a fare queste cose non ci sono più cioè quando hai deciso ha ragione in pieno Giorgio cosa gli vai a dire alla gente quando hai mandato i casi a 3.000 miliardi che cazzo gli vai a dire accendi l'app quello ti dice l'app accendo il Nintendo ma non l'app non ce l'ha capito infatti l'altro vogliono tutti cancellare ma io li capisco anche perché c'è gente che pensa solo andare in vacanza ma certo penso tanti amici mi hanno detto a me devo andare in vacanza qui devo andare là infatti guarda una cosa Giorgio volevo dirtela quella cosa che tu hai detto ma l'ha detta anche Luca cioè è passato a questa cosa che il vaccino fermava tutto ti veniva la maglia di Superman e c'avevi la criptonite cioè questo secondo me a quelli che hanno curato la comunicazione scientifica sui vaccini e tutte le campagne vaccinali onestamente si può dire che è stato un errore abbastanza marchiano si deve però quello è un campo minato appena tu ti azzardi a dire che il vaccino è una francea ti dicono no wax ma è no wax cioè onestamente anche a me l'han detto pensa che io ho finito la seconda dose perché sono in una categoria rischio perché la pressione è alta l'ho finita il 27 maggio voglio dire mi dicono perché non ho messo la foto che mi sono fatto il vaccino perché mi girano i coglioni cazzo gliene frega la gente di dove ho fatto il vaccino ma però però questa cosa però dovresti smettere di fumare eh lo so ma però prendo le pastiglie per fumare per tenerla bassa quindi cioè non è che mi rompono i coglioni faccio tutto no volevo giustamente rompere i coglioni allora cioè il tema di questa cosa qua dei vaccini che se i vaccini proteggono dalla malattia proteggeranno dall'infezione eccetera eccetera secondo me questa cosa di non di non tener conto che si sapeva peraltro che il virus sarebbe circolato più o meno anche dopo che c'erano stati i vaccini cioè questa roba secondo me è un incentivo a dei comportamenti che poi farli tornare indietro è un casino della madonna ma il punto è che ci sono vaccini ci sono condizioni per cui non ci sono non esistono vaccini no ora per queste condizioni per cui non esistono vaccini non è che non esistono vaccini perché il vaccino sia impossibile da fare non esiste il vaccino perché tu fai il vaccino vaccini le persone il virus cambia il vaccino il vaccino diventa inutile non diventa inutile subito ma diventa inutile dopo qualche mese quindi piuttosto che stare lì allora non lo sappiamo ancora se questo se il covid sarà una cosa così purtroppo tutti i numeri che fai sui trial eccetera sono sulla variante che gira in quei due o tre mesi ma due o tre mesi sono niente adesso comunque che variante abbiamo avuto l'ultimo anno facciamo il conto abbiamo una variante ogni quattro mesi abbiamo un virus che rispetto alla versione iniziale è tre volte più contagioso almeno tre volte più contagioso rispetto a quello che è uscito dalla Cina almeno tre volte più contagioso a marzo i bambini con sintomi non se ne vedeva neanche uno adesso sono ovunque a marzo dell'anno scorso reinfezioni non se ne vedevano ovviamente anche perché era comunque marzo da giugno infezioni dopo tre mesi ma adesso se ne vedono un sacco quindi il virus è cambiato e quelli che dicono il virus ha raggiunto il plateau evoluzione non scherziamo voglio dire se la parla di cristallo dammela anche a me ma bisogna procedere in maniera realistica diciamo magari sarebbe sarebbe diciamo questa cosa dell'aria io non ne parlo perché ho io il conflitto di interesse della pulizia dell'aria però perché abbiamo quotato una società che si occupa di quello ma questa cosa dell'aria e della qualità dell'aria negli indoor spaces è una cosa che a me manda in bestia perché siamo lì a depurare l'acqua da qualsiasi cosa giustamente 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 quindi abbiamo tutti gli impianti in casa i sali le robe dei reattori nucleari per avere l'acqua dal rubinetto ma di come sia l'aria indoor ma anche prima del covid dico cioè di come sia la qualità dell'aria indoor allora mi diceva uno di una RSA lo dico perché così lo sa che praticamente questi qui hanno messo un certo sistema di depurazione dell'aria che non posso pubblicizzare e che per il conflitto famoso e che prima del covid l'hanno messo e questo che è la responsabilità finanziaria di questa RSA ha avuto una riduzione delle malattie respiratorie in RSA perché ha messo questo sistema che è equivalente a ogni anno cinque volte il canone di leasing dell'impianto che ha messo perché le cure risparmiate sui vecchietti dell'RSA per i vari virus respiratori le allergie e tutte quelle altre cose che ti leva sono cinque volte allora di questa cosa qua nessun paese perché non si parla di questa cosa qua non si parla neanche negli Stati Uniti perché negli Stati Uniti ci sono i singoli stati che ogni tanto dicono alle scuole comprate i filtri EPA per dire di questa cosa qua e questo è veramente colpevole perché sono dei sistemi e lo dico perché lo so perché non ha del mestiere che faccio anch'io non sono cose costosissime per niente cioè si parla di impianti che costano dai 150 euro per un'aula di una scuola fino a quello più sofisticato può costare 500 di questo nulla non c'è nulla nulla noi stiamo ti dico solo che facciamo poi chiudo perché sia fatto molto tardi in università al momento stiamo facendo quello cioè stiamo valutando ogni aula sulla base del ricambio d'aria perché quello alla fine è l'unico è l'unico parametro che ti dice quanto sicura sia un'aula se il ricambio d'aria è oltre un certo limite va bene altrimenti devi metterci meno persone dentro va bene ragazzi grazie mille veramente è stata una bellissima discussione cioè ringraziamo veramente grazie Luca e grazie Giorgio è stata lunga intensa però veramente molto interessante è un'ora e mezza eh vabbè come sempre ci mettiamo qua parliamo ti facciamo i supplementari esatto ascolta Luca se ti rapiscono manda un messaggio ti preoccupare no no io sono tranquillo sono tranquillissimo ma Luca guarda io faccio quello lì ho un condizionatore d'aria che si vede quindi sei sei in balcone e sei al caldo quindi sei o in Italia azzeccato entrambe le cose ma io io però lo so dov'è ma non lo dico però va bene sentite e niente magari adesso noi abbiamo un po' mollato anche noi perché avevamo andato a lavorare io ho dovuto quotare il mio padrone della melonera sopra e sono stato un po' sott'acqua fino a due settimane magari adesso riprendiamo a farle un po' più cicli un po' più periodiche però diciamo così che noi quattro però ci si ridà appuntamento se oltre alle due mutazioni mensili che ha il virus succede qualcosa che che no vabbè ci si dà appuntamento quando cazzo vogliamo però il virus siccome fa due mutazioni al mese un po' stocasticamente ormai adesso comunque la palla non è più sul Regno Unito però il Regno Unito ormai è avviato verso questa cosa adesso gli sviluppi interessanti saranno in continente saranno altrove in Italia in Francia in Spagna sì ho visto che oggi la Hotcroft ha messo fuori una roba su una roba che gira in Grecia è 1 3 1 8 cioè 50 numeri perché loro non l'hanno ancora nominata cioè qua si rischia che l'alfabeto greco non basta non basti più dobbiamo usare no esatto dobbiamo fare le ripetizioni poi ci sarà Lambda 1 e Lambda 1 e Lambda 2 finirà così finirà con la criptografia anche per le varie grazie mille grazie Luca senti staci bene anche voi mi raccomando non sparire in altri tre mesi tranquillo tranquillo ma adesso sei sotto di lavoro come un altro sì sì beh ma sono le ultime scosse della delta e nel frattempo io ho iniziato cerco di capire cosa fare poi continuerà per un certo punto bisogna aspettare di vedere come diceva Giorgio se si arriva a Londra o no va bene ci beccheremo dei funebri con questo esatto tanto c'era che becchavamo anche prima quindi ciao 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 a tutti buona sera ciao 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 ciao